Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi, un po' prima del solito perché ho poi un appuntamento alle 10, se non evitavo di farla. Vi ricordo che oggi, come sempre alle 19, ci sarà 105 Matrix su Radio 105 e questa sera andremo in onda con Matrix alle 23.30 su Canale 5. I temi della giornata sono diversi, però io vorrei partire da un tema che riguarda la Nuova Repubblica. Ieri in Pompamagna si sono presentati dal Presidente della Repubblica Mattarella, ieri hanno avuto un servizio al Tg1, il servizio istituzionale più importante del Tg1, perché Repubblica cambia grafica. Qual è il mio giudizio con questa grafica? Il giudizio è presto detto, sembra che un pusher abbia fornito della roba non buona, ma direi pessima, di qualità, ai grafici, ai direttori e a coloro che dovevano decidere la prima pagina di Repubblica. Oggi la prima pagina di Repubblica è allucinante, allucinante. Sembra un sito degli anni Ottanta scritto male. È povera, è grigia, ma d'altronde pensare che la prima pagina di Repubblica sia stata pensata, sia stata riflettuta, sia stata vagliata da coloro che pensarono di mettere l'amaca di Michele Serra in prima pagina di Repubblica di sovratestata ti fa capire il senso di come sia stato fatto quel giornale. Solo critiche sulla prima pagina di Repubblica? No! Ci sono anche degli aspetti positivi. Il primo aspetto positivo è che l'amaca di Michele Serra è ritornata come lui, giustamente scrive in un post-crittum nella pagina dei commenti, cosa fondamentale. Seconda questione, le pagine interne sono molto chiare, non sono brutte, non è male il bandone verticale che c'è. Insomma, mi sembra più nelle pagine interne migliore. Poi, per il resto, quello che conta sono i contenuti e basta vedere come è inaugurata la prima pagina di Repubblica oggi col titolo di apertura, senza fondo peraltro. Repubblica dice Mario Calabresi, voglio fare giornale che non ha nulla a che vedere con i siti internet. In realtà è un sito internet e l'unica cosa di più analisi, più commenti è in pagina 1, non c'è un'analisi, non c'è un commento, non mi fai un fondo, io voglio il fondo a pagina 1. Sono fissato, devi darmi l'informazione, l'opinione a pagina 1, se no vado sul sito di Repubblica, peraltro fatto meglio di quello del Corriere, quindi decisamente più competitivo. Vabbè, l'altra cosa incredibile è che oggi Calabresi fa un'intervista a Mariano Racoi, chiaramente un'intervista dalle domande secondo me scritta, gli ha mandato le domande e gli sono ritornate indietro, un'intervista che fa schifo, giornalisticamente non c'è nulla. L'unica domanda che poteva essere interessante è, toc toc Racoi, ma insomma gli italiani sono seccati sulla questione dell'EMA e cioè che gli spagnoli hanno preferito Amsterdam a Maritalia. Secondo voi gliel'ha fatta questa domanda? Che è la domanda in questo momento che si fanno tutti? No, non gliel'ha fatta. D'altronde voglio dire, in questa maniera uno potrebbe lamentarsi giustamente le domande che io ieri sera non ho fatto a Berlusconi su Matrix 105. Ognuno ha i suoi problemi, mettiamola così. Sfottono quelli del fatto perché dicono quanto spazio ha dato il Tg1, vorremmo che desse lo stesso spazio anche gli altri giornali che cambiano qualcosa. Non sono del tutto d'accordo perché Repubblica ha una storia tale, buona o cattiva che sia, è un peso tale, primo giornale italiano, che se cambia la grafica ci sta che il Tg1 gli dedichi un po' di spazio. E invece Facci sfotte il condirettore Cerno per l'articolo che aveva fatto ieri sui grigi, sui colori, sulle cose, ma insomma forse questo caso Facci esagera un po'. Notizia vera, interessante, oggi sul Corriere della Sera è uno scoop del Corriere della Sera, cosa succede? Ha beccato il Corriere della Sera una signora che si chiama Susanna Masi, non l'ha beccato il Corriere della Sera, la Ferrarella, la giornalista giudiziaria del Corriere della Sera, ha avuto le carte della Procura perché è l'unico che ce l'ha, ciao Lavinia è l'unica che ce l'ha, queste carte della Procura in cui questa Lavinia Masi sarebbe stata prima l'assistente di De Vincente al Ministero delle Finanze, poi assistente nei gruppi di Padoan, poi nel Consiglio di Amministrazione di Equitalia, cioè nei grandi ruoli fiscali italiani, questa signora sarebbe stata e passava per 220 mila euro all'anno, che secondo me era uno stipendio, non è che era una stecca pagata senza dire nulla, passava le informazioni fiscali riservate che il governo stava facendo al gruppo fiscale di consulenza Ernest E. Young, se questa cosa dovesse essere dimostrata non è che bisogna arrestare Susanna Masi, non è che bisogna fare tante cose, non è che ci vogliono leggere, non ci vuole whistleblowing, il governo italiano dovrebbe dire sapete che c'è Ernest Young, tu con noi non lavori più, basta, finito, zero, cioè via a cagare se così fosse, questo avviene in un paese normale, però aspettiamo di vedere quello che dirà difese accusa, perché quello che mi sembra di capire è che sono le carte semplicemente mollate dalla procura alla giornalista, come sempre avviene la difesa senza garanzie, completamente attonita, atterrita. 200 milioni di euro che mancano le forze dell'ordine per pagare gli straordinari, notiziola che dovrebbe essere importante oggi, cita il Corriere della Sera, però la cosa che più mi impressiona oggi nel Corriere della Sera, che è fatta secondo me in modo molto interessante, oggi c'è molte notizie, è l'esodo degli ebrei dalla Francia, in Francia a Parigi ci sono 365 mila ebrei, persone di origine ebraica, bene, pare che 60 mila, 60 mila si siano rimaste, si siano rifugiati altrove, perché hanno paura nelle periferie, nelle ballie, nelle zone in cui vivono, hanno paura di quello che il razzismo fondamentalista islamico gli sta procurando. Questa è una notizia per me, 60 mila rifugiati nella moderna, civile, libertà, egalità, Francia, Parigi, patria, di tutto questo gli ebrei non si sentono sicuri. Io dico che è una cosa incredibile, incredibile, non so come la pensate voi, però quando si parla di ebrei non si può mai, come possiamo dirvi, non si può mai avere poi lo spazio che si merita. Se fosse stata un'altra minoranza ci sarebbe stato su un cancan mostruoso, alla faccia che gli ebrei governano l'informazione mondiale. Diba molla il Parlamento, ci sono due punti di vista, quello di Scanzi oggi che è imbarazzante, siamo amichetti, sostanzialmente dice, e Diba è il più grande di tutti, cosa dice? Farà come prima del 2013, controinformazione, oppure si occuperà di politica viaggiando. Controinformazione, già la fa Scanzi controinformazione, il giornale suo, esiste già l'informazione, voglio dire essere scansiani, essere amici del fatto, la controinformazione è già quella che fa il fatto, non c'è bisogno che ci sia Scanzi che da solo fa controinformazione. Sembra Che Guevara, questo mito del Che Guevara è straordinario, lui che legge sul letto, poi sta molto simpatico di Battista, devo dire la verità, però è molto bravo, ed è molto bravo come leader politici a creare intorno a sé un allure di grandezza, quindi io gli riconosco questo, cerca di svelarla questa allure di grandezza, di ridicolizzarla oggi, sullusti, sul giornale, in cui dice ragazzi ma ci sono milioni di padri che hanno fatto grandi statisti, politici, e ci sono milioni di padri che fanno i metalmeccanici, gli operai, insomma adesso non ci romper le bale sul fatto che molli la politica perché vai a fare papà, perché allora se così fosse non dovrebbe lavorare nessuno a questo mondo, banale considerazione super condivisibile oggi di Sallusti. Io ho visto oggi sulla Verità una pubblicità che non ho visto da altre parti, che è la seguente, sulla Verità c'è una pagina intera di pubblicità con un bambino presunto morto, neonato, io sono uno dei bimbi morti per SIDS, cioè morte in culla, post vaccino esavalente occultati dai rapporti ufficiali. Una pubblicità come si direbbe sinteticamente nei giornali shock in cui il bambino dice di essere morto in culla, penso per colpa del vaccino esavalente, se così fosse insomma mi sembra una pubblicità assurda, incredibile, perché che il vaccino esavalente sia legabile e sia relazionabile alle morti in culla è una roba che è dimostrata soltanto nella testa o del grafico di Repubblica o di qualcuno che crede alle scie chimiche, poiché i vaccini abbiano delle controindicazioni fuori di dubbio, ma che questa sia una delle controindicazioni lo dice questa pubblicità incredibilmente oggi pubblicata, ma chi paga si pubblica. Bonifici immediati, così titola il sole 24 ore, cioè sostanzialmente tu puoi fare un bonifico immediato è una minchiata, non è vero, è un titolo falso, è una fake news, non è vero che ci sono i bonifici immediati, oggi voi se andate sul vostro computer e andate sulla vostra banca e fate un bonifico immediato non lo potete fare, perché intanto questa cosa vale per chi li riceve per il momento e poi vale per sole tre banche, Sella, Unicredit e Intesa, e poi deve essere fatto tra di loro, quindi se io sono di una banca X e non sono di Unicredit non lo posso ricevere, se non lo posso fare, non è vero, ci saranno da gennaio, forse nel 2018 ci sarà la possibilità dei correntisti Unicredit di fare e ricevere bonifici immediati, ma tra loro stessi è comunque un costo e Fineco ad esempio fa parte del gruppo Unicredit, si tratta di dalla, fake news, titolo falso, comunque c'è su tutti i giornali e quindi ce lo portiamo a casa, questo per dire quanto i giornali siano molto più attendibili rispetto a internet, questo sembra un titolo fatto da un tweet, non da un haters, da un cazzone su internet invece è fatto da noi giornalisti, da noi, probabilmente c'è anche sul giornale perché abbiamo preso pari pari comunicato stampa di qualche banca, web tax, l'altra grande follia di questo momento, devono essere tassate le grandi aziende che fanno utili in Italia e non pagano una linea in Italia? Sì, oggi tutti i giornali del mondo hanno parlato del fatto che Apple sfruttava degli studenti per lavorare per fare il nuovo iPhone 8 che avete voi nelle vostre case? C'è 10 righe di notizie, è vero che tutta la stampa internazionale è sdraiata alle grandi multinazionali, Google, Facebook, etc? Sì, ma è vero, ma è vero che è utile una tassa del 6% sui ricavi? No, banale, ma vi sembra normale in un paese normale che si tassino i ricavi? Ma che cazzo di senso c'ha ragazzi? Non puoi sparare con un mitragliatore per trovare un nemico lontano 50 km? È una roba incredibile, l'emendamento Mucchetti ucciderà le piccole e medie imprese italiane che lavorano sulla rete e che avranno contenuti innovativi, è una cosa pazzesca. François, forse, ecco, arriveremo a tassare la zuppa con questo criterio. Tassare i ricavi è una roba di inciviltà giuridica fondamentale ed è la stessa inciviltà giuridica per i quali i Mucchetti e quella compagnia là, i grillini, quella sinistra, insopportabile, che non è di tutti quanti, dice meglio un innocente in galera che un colpevole fuori. E quindi portiamoci la web tax al 6% sui ricavi. Roba di amanti. Ciao!